La chiamano figlia del diavolo? Ma perché? Cosa ha fatto per guadagnarsi questa inquietante nomea? Poche persone al mondo vengono chiamate così e anche in questo caso c'è un motivo molto, molto inquietante. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e spegnere le luci perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Non so se avete notato ma ho cambiato videocamera, spero che la qualità si percepisca, io la percepisco. Spero che appreziate questo mio investimento perché fidatevi è stato un bel investimento. A parte gli scherzi sono contento di averla presa perché così la qualità dei video è aumentata un pochettino, almeno spero. Cioè spero che voi lo vediate. Comunque a parte tutto questo cerchiamo fin da subito di immergerci nel contesto di oggi perché è molto importante. Siamo in Inghilterra negli anni 90, ci troviamo a Camberley, una cittadina piuttosto grande dell'Inghilterra che si trova nella contea di Surrey. Lì ora vivono quasi 40.000 persone e a quanto capito è un posto in cui si vive abbastanza bene. Negli anni 90 da quelle parti vive una giovane tirocinante parrucchiera di 18 anni. Il suo nome è Katie Ratcliffe. Katie è una ragazza che alla sua età è già proiettata verso il mondo degli adulti. Ha già un lavoretto e tanti sogni concreti da realizzare. Vuole aprirsi il suo salone di bellezza, vuole essere indipendente e anche creare una famiglia. Tutte cose abbastanza fattibili da raggiungere. Nonostante questo, direi anche ovviamente, dentro di lei c'è ancora quella parte adolescente e un po' fancazzista che abbiamo avuto tutti. Anzi forse qualcuno di voi ce l'ha ancora. E non è una cosa negativa, anzi, fa parte della vita di ognuno di noi. Quindi insomma, nonostante Katie sia una persona seria, le piace comunque fare serate con gli amici, divertirsi e così via. Nonostante tutto però è più propensa alla maturità. È decisa sulle sue aspirazioni. È molto, molto professionale. Siamo nel 1992 e Katie ha da poco iniziato questo suo tirocinio. Dopo pochissimo tempo il suo capo è già super contento di lei. L'ambiente di lavoro è sereno, tranquillo, ma anche serio e rispettoso. Ma in generale lì dentro la giovane si sente come dentro ad una grande famiglia. Io non ho mai trovato un posto di lavoro del genere, quindi se sapete dov'è, fatemelo sapere. Tutti si rispettano lì e hanno i loro spazi e Katie ha la possibilità di provare agli altri le sue qualità. Eppure per quanto si tratti di una situazione in generale felice, da un punto di vista sentimentale, sta passando un brutto periodo. Verso la fine di maggio, inizio giugno di quell'anno, Katie si molla con il suo ragazzo. E per lei è un duro colpo. Si sente molto triste e le passa addirittura la voglia di uscire di casa, cosa che a 18 anni in generale è rara. Le sue amiche però un po' la costringono a prendere una boccata d'aria, a passare un momento insieme in cui sperano di strapparle almeno un sorriso. E così un po' controvoglia il 6 giugno 1992, Katie e una sua amica escono per fare serata. Vanno in una discoteca di Kimberly chiamata Raga Muffins. Ballano, bevono e si divertono. Tutto sommato passano una bella serata. Katie finalmente sembra lasciarsi un po' andare nonostante la rottura. E le due rimangono dentro la discoteca fino alle 4 del mattino, ovvero fino all'orario di chiusura. Ma tra la confusione e l'alcol che avevano bevuto, le due amiche si perdono di vista. Si separano e non riescono più a trovarsi. Katie si ritrova così fuori dal locale, da sola. Presto si rende conto che è molto tardi, per cui decide semplicemente di tornare a casa. Vi ricordo che siamo nei primi anni 90, i cellulari erano sì stati inventati, ma erano grandi, scomodi e soprattutto non venivano usati da tutti. Quindi Katie anche volendo non avrebbe potuto chiamare la sua amica. Ma comunque inizia il percorso verso casa camminando un po'. Non è chiaro se stesse rincasando proprio a piedi o se stesse andando da qualche parte a chiamare un taxi o prendere un mezzo pubblico. Ma non è questo il punto. Il punto è che da quel momento, di punto in bianco, Katie sparisce nel nulla. Non arriva a casa e nessuno ha più sue notizie. Sembra proprio che sia svanita da un momento all'altro tornando a casa. Tempo dopo, alcuni ragazzi stanno passeggiando nei pressi di un cimitero a Farnborough. Scusate, non so come si pronunci, ve lo scrivo da qualche parte. Comunque si tratta di un'altra cittadina lì vicino che dista da Camberley più o meno 8 chilometri. Per cui questi ragazzi, mentre passeggiano spensierati vicino al cimitero, all'improvviso fanno una scoperta scioccante. Trovano Katie, o meglio trovano il suo corpo nudo, ferito e senza vita. La notizia della sua morte è improvvisa e spiazzante. E sono spiazzanti anche le condizioni in cui riversa il corpo. Se ci fosse un modo per rappresentare visivamente il termine brutalità, sarebbe guardando il corpo di Katie. La povera giovane era senza vestiti, riversa a terra e con più di 30 ferite da taglio su tutto il corpo. Qualcuno l'aveva colpita ripetutamente per ben 30 volte ragazzi. Ciò parliamo di una furia non da poco. Molti di questi colpi poi sono così profondi che hanno trapassato il corpo. Altri sono più superficiali, ma altri comunque gravissimi. C'è stato un accanimento animalesco nei suoi confronti. Una furia omicida così forte che la vittima sembra sia uscita da un tritacarne. E non sto esagerando. La cosa ancora più agghiacciante è che le zone del corpo più colpite sono state i genitali, il viso e le spalle. Sono però le parti intime a essere ridotte peggio, come se quelle zone fossero il reale obiettivo dell'aggressore. Comunque io vi ho già detto che i ragazzi hanno scoperto il corpo di Katie, ma sembra che in realtà ci sia voluto un po' di tempo per determinare che fosse lei. Quindi immaginate veramente le condizioni in cui era. Gli investigatori, infatti, una volta appreso tutto quello che c'era da sapere su di lei, iniziano a scervellarsi per capire cosa hanno davanti. Ma soprattutto il perché. Le domande che si fanno sono quelle che ci stiamo facendo anche noi. Chi può averla ridotta in quello stato? Perché? Aveva accettato un passaggio dopo la discoteca. Di sicuro aveva incontrato il suo aggressore, ma dove, come e perché? Era qualcuno dei suoi conoscenti? Il corpo di Katie poi è stato ritrovato abbastanza lontano da casa. Insomma, è evidente che sia stata obbligata ad andare fino a lì. Un pazzo l'ha presa di mira per qualche motivo e evidentemente ha scaricato il suo corpo in un posto lontano da casa sua. Il ritrovamento, ovviamente, sconvolge l'intera comunità e nessuno riesce a spiegarsi chi possa essere stato. Anche provando a interrogare tutte le persone di interesse, i detective devono fare i conti con la dura realtà. Non c'è niente che possa far proseguire questo caso. Non esistono telecamere di sicurezza, per cui non ci sono prove video della discoteca. Non ci sono prove che magari potrebbero far pensare al suo ex come responsabile e non ci sono prove che possano condurre anche ad un totale estraneo incontrato quella sera. In quel momento, gli investigatori hanno davanti una ragazza dilaniata in modo barbaro e niente di più. Di sicuro Katie non meritava una fine così atroce e sicuramente dolorosa, ma su una cosa almeno le forze dell'ordine sono abbastanza certe. L'unica sicurezza che hanno è che è colpevole, è sicuramente un uomo. Anche una criminologa del tempo dichiara che di sicuro un delitto del genere può essere stato compiuto solo da un uomo, soprattutto perché a livello di statistiche è quasi sempre stato così. Il prospetto ipotetico del colpevole lo dipinge come un maschio sulla trentina. Se lo immaginano muscoloso o comunque dal fisico massiccio, magari una persona che si allena di frequente. Ma nonostante questo è curioso che non ci sia traccia di stupro, come se il mostro che l'ha colpita fosse solo interessato ad ucciderla e a farla soffrire il più possibile e anche a vedere l'orrore nei suoi occhi mentre la vita lasciava gradualmente il suo corpo. È un dettaglio piuttosto importante, un dettaglio che spinge gli investigatori a pensare che il colpevole fosse un sadico, un mostro senza scrupoli che gode anche in modo intimo nel veder soffrire qualcuno e nel prendergli la vita. Ma nonostante queste congetture e questi sospetti, un vero indizio non c'è. Così per ben due lunghissimi anni il caso rimane freddo, irrisolto. Per due anni a Camberley si rimane col cuore in gola. Le persone vivono nel terrore che uno squartatore in agguato possa salirle da un momento all'altro. Cioè come fai a vivere così? Immaginate di uscire a portare fuori il cane o andare a comprare le sigarette e sapere che nei paraggi, magari nella tua stessa via, c'è un assassino spietato a piede libero. Madonna, solo a pensarci mi vengono i brividi. Ma comunque, dopo questi due anni, la morte di Katie e la quasi morte di un'altra ragazza faranno luce su una persona davvero pericolosissima, ovvero irresponsabile. Anzi, in realtà è LA responsabile. È una ragazzina. Il suo nome? Sharon Louise Carr. Lei è la inquietante protagonista della nostra storia, la soprannominata, figlia del diavolo. Per parlare di Sharon, dobbiamo prima fare un passo indietro e andare a prima della vicenda di Katie. Tranquilli, poi torniamo anche da Katie e vediamo anche il suo caso da un'ottica diversa e più precisa. Ora però, dobbiamo capire chi è questa Sharon e cosa c'entra con la nostra storia. Bene, partiamo dal principio. Sharon nasce nel 1981, anche se non ne sono sicurissimo perché alcune fonti dicono 1979. Nasce comunque a Belize, nell'America centrale, e viene cresciuta da sua madre e suo padre. Non è figlia unica e vive purtroppo in un contesto di grande povertà. Una fonte riporta che non avesse mai conosciuto il suo padre biologico e che sembra fosse cresciuta in un ambiente non proprio sano. In altre fonti invece si fa accenno al padre biologico e come. Quindi ecco, abbiamo delle fonti un po' discordanti online. Comunque appunto in altri articoli si parla abbondantemente di suo padre biologico. Cosa che mi fa pensare che lei non solo lo avesse conosciuto ma avesse anche vissuto con lui per un bel po', purtroppo. E dico purtroppo perché si parla di un padre violento, di indole selvaggia. Infatti si dice che bevesse ogni giorno e che fosse violento non solo con Sharon ma anche con tutto il resto dei familiari. Ma non è l'unico elemento tossico di questa famiglia. Anche sua madre aggiunge quel tocco piccante al tutto. E dicendo tocco piccante intendo letteralmente. Pare che punisse i suoi figli mettendo loro del peperoncino nei genitali. Poi si dice che li picchiasse ogni volta che sbagliavano qualcosa. Si tratta di una madre iraconda e intrattabile. Incapace di donare ai figli l'unica cosa di cui hanno bisogno. L'amore. E questa condizione dura per anni. Poi però si trasferiscono in Inghilterra nel 1986. E l'intera famiglia si stabilisce a Camberley. Proprio il luogo della nostra storia. Il matrimonio tra i suoi genitori però finisce poco dopo questo trasferimento. La madre si rinnamora e si risposa. Questa volta con un uomo inglese. Da quel momento la condizione di tutti sembra un po' migliorare più o meno. Stanno sicuramente meglio a livello economico. Ma ad un certo punto questo patrigno decide di voler lasciare la madre di Sharon. Lei, la madre, non la prende affatto bene. Non è chiaro quali fossero le motivazioni. Ma forse tutto ha a che fare con il caratterino della donna. Cioè una madre che fa stai cosa ai figli non può che essere una persona di merda ragazzi. Comunque in questo periodo di grande tensione si verifica un grave incidente di violenza domestica. L'ennesimo oserei dire. Praticamente la madre di Sharon perde completamente la testa. E durante una discussione accesa, presa dalla furia, versa del grasso bollente sul suo compagno. L'incidente causa il ricovero in ospedale di lui e varie accuse tra i due. E si può speculare sul fatto che questo terribile atto di violenza abbia scatenato qualcosa in Sharon. Non è una conferma ufficiale, ma è probabile che aver assistito a quello sfogo di rabbia, a quella cattiveria inaudita, deve aver fatto scattare qualcosa. Qualcosa di decisamente oscuro e anche peggiore. Poi vabbè, se a tutto questo aggiungiamo l'infanzia turbolenta che aveva avuto, si crea un mix decisamente preoccupante e pericoloso. A scuola, tuttavia, Sharon è stata inizialmente descritta dai professori come educata e disponibile. Gli amici la descrivono come una ragazza succevole, che preferisce da sempre la compagnia dei ragazzi un po' più grandi di lei. Ma occasionalmente Sharon dicono che manifestava attimi di aggressività. E col passare del tempo, questi attimi divennero sempre più frequenti, sempre più aggressivi e più pericolosi. Crescendo Sharon comincia a comportarsi sempre peggio. Diventa sostanzialmente una bulla ed è sempre alla ricerca di attenzioni. Lei però non è una bulla come le altre. Sembra che goda proprio, in maniera fisica, nel fare del male. Sente il sapore della violenza e lo percepisce come squisito. Comincia quindi ad avere problemi non solo a scuola ma anche con le forze dell'ordine. Niente di così grave però da mandarle in carcere, per ora. Si circonda ovviamente di pessime amicizie che diventano quasi come delle figure paterne per lei. E questi, da bravi pessimi genitori, le fanno provare erba, alcol, droghe e le fanno commettere anche piccoli furti. Un giorno, nel 1990, il suo preside alla Cordwallis Junior School è costretto a contattare i servizi sociali per gestire il suo comportamento irruente. E Sharon viene quindi brevemente data in affidamento. Ma torna a casa sua dopo solo un mese di assenza. Quando poi inizia la scuola secondaria, quindi sì, prima era ancora alle elementari, sua madre trova un nuovo compagno. Questo compagno ha già due figli, che iniziano quindi a vivere insieme a Sharon e a sua madre. La ragazza però è scatenata. E anche se non è chiaro, è probabile che si siano verificati altri incidenti domestici. Forse questa volta per colpa sua. Perché ormai la sua mente è focalizzata solo sulla violenza. Sembra non essere in grado di fare altre cose oltre a quello. È sempre stata circondata da violenza, fin da piccolissima. Quindi col tempo e con le pessime amicizie, si è trasformata in una persona dedita al male assoluto. Era solo questione di tempo prima che le sue voglie sempre più carnali, viscerali, prendessero il sopravvento. E non è sola a fare tutto ciò. Ha anche molti uomini, anche di mezza età, che le girano attorno. E vi ricordo che a questo punto ha dai 12 ai 14 anni. Cioè, assurdo. Infatti comunque non sarà sola quando toglierà la vita in modo completamente casuale a Katie. Esatto, non era sola, ma è stata lei a farle tutto questo. Una fonte in particolare racconta come sono avvenute le dinamiche quella sera. Descrive gli eventi che hanno portato la giovane parrucchiera ad essere perforata e gettata senza vita in un cimitero. Dunque, torniamo a quella sera. La sera del 7 giugno 1992. Sharon Carr è in giro con due uomini più grandi di lei nella contea di Surrey. Non è chiaro cosa stessero facendo, ma molto probabilmente non facevano nulla di che. Ad un certo punto avvistano una diciottenne che cammina di notte da sola. È Katie Ratcliffe, che ha da poco rotto col suo ragazzo. Ricordate? Si è concessa una serata in discoteca e ora sta tornando a casa. Sharon e gli amici si fermano con la macchina. E con il pretesto di offrire un passaggio a Katie, la convincono ad unirsi a loro. Vi ricordo che Sharon ha solo 12 o 14 anni. Ed è con persone molto più grandi. Persino Katie è più grande di lei. Cioè, mettiamoci nei suoi panni. Hai 18 anni, stai tornando a casa dalla discoteca e una ragazzina, poco più che bambina, in macchina con degli sconosciuti ti offre un passaggio. Cioè, molto strano. Forse Katie per via della sbronza, della rottura col fidanzato o per sincera fiducia accetta il passaggio di Sharon. Sale in macchina e se ne vanno. Katie però nota che la stanno portando in una zona isolata. Cioè, vede che non c'è nulla attorno. Così inizia a preoccuparsi. Capisce di essersi cacciata in una brutta situazione. Perciò diventa nervosa e sospettosa. All'improvviso apre la portiera, scende, non si sa bene come, e inizia a scappare più in fretta che può. Sharon però immediatamente scende dalla macchina e inizia a seguirla. E così fanno anche gli altri due uomini. Ma prima che Katie riuscisse a fuggire dalla loro vista, Sharon purtroppo la raggiunge. Cioè, era velocissima. Estrae un coltello e inizia a pugnalarla. Lo fa per circa una trentina di volte. Specialmente al seno e ai genitali. Si è accanita davvero tanto su di lei e ha preferito non ucciderla subito. Molto probabilmente aiutata dagli altri ragazzi, Sharon ha tenuto in vita la vittima per un po', facendole patire ogni singolo colpo. Poi l'hanno abbandonata in quel cimitero come un sacco di patate. Questa è Sharon adesso. Un'assassina. Una giovanissima assassina. Ora che ha provato l'ebbrezza del sangue, cosa può fermarla? Nella sua testa pensa, perché non continuare? Perché soprattutto non vantarsene? La cosa strana è che per due lunghi anni di indagine nessuno ha mai sospettato di lei. Come detto prima, i detective avevano pensato che il colpevole fosse un uomo massiccio. E non certo una ragazzina minuta di 12 anni. Nessuno se lo aspettava. Eppure è andata così. Sharon sembra anche essersi vantata del suo omicidio a scuola. Ma pare che nessuno l'avesse presa sul serio. Cioè, i suoi compagni sanno chi è Sharon. È una che vive di violenza, un'attaccabrighe. Ma nessuno crede che sia davvero capace di una cosa simile. Ma vabbè, quindi com'è che sappiamo tutte queste cose? Se per due anni nessuno l'ha mai cercata, neanche pensata. Perché adesso è tutto diverso. Ebbene perché dopo quei due anni, tenta di compiere un gesto simile al suo primo delitto. Ma questa volta, nella sua stessa scuola. È il 7 giugno 1994. La polizia riceve una chiamata d'emergenza dalla Collingwood College Comprehensive School. Viene detto loro di un terribile incidente accaduto a due alunne. Una studentessa di nome Sharon aveva appena accoltellato una sua compagna di nome Anne-Marie Clifford. L'aveva attirata in bagno con l'inganno e poi aveva colpito. E ormai, ferita mortalmente, Anne-Marie sta perdendo molto, molto sangue. Per fortuna le autorità e i medici arrivano in tempo e riescono a salvare la vita di questa povera ragazza. La portano in ospedale e la salvano miracolosamente. È stata ferita alla schiena con un coltello molto lungo, che le ha danneggiato anche un polmone. Alla fine, dopo ore, giorni disperati, grazie anche ai medici, tutto si è risolto. Però Anne-Marie è sotto shock. Ha potuto vedere chiaramente chi le aveva fatto tutto questo. Ha visto la morte in faccia. Ed è stata in grado di spiegare cosa è successo e chi era il colpevole. Ovviamente Anne-Marie è traumatizzata e questo attacco lascerà un segno indelebile sulla sua salute, sia fisica che mentale. Infatti inizierà a soffrire di incubi e anche di un disturbo post-traumatico da stress. Tanto che suo padre deve monitorarla e starle accanto quasi costantemente. Quindi capite che la sua condizione non è affatto facile. La giovane non può mettersi a raccontare l'attacco in modo tranquillo e preciso. Così poco per volta i fatti vengono ricostruiti. Anne-Marie ha subito un destino simile a quello di Katie, ma in un contesto diverso. E il fatto che sia viva è solo un miracolo. Questa volta l'assassina non ha agito all'aperto e di notte, ma siamo tra i corridoi scolastici pieni di gente. Sharon in quella scuola è mal vista da tutti. È una bulla e le persone hanno paura di lei. Quindi fanno tutto ciò che dice. O meglio, ordina loro di fare. Così Anne-Marie inizia a raccontare. Dice che quel giorno ha visto Sharon, che le ha chiesto aiuto per trovare una moneta persa in bagno. Anne-Marie sperava di aiutarla in fretta e andarsene via il prima possibile perché, se avesse rifiutato, probabilmente le avrebbe prese. Però non sapeva che accettando di aiutarla, invece, aveva condannato direttamente la sua vita. Ma non poteva immaginarlo. Sharon anche questa volta inganna la sua preda. La getta a terra a pancia in giù, estrae un coltello e poi inizia a giocarci con le mani, passandoselo da una mano all'altra con fare minaccioso, supponente e sadico. Nel frattempo ride e sghignazza in modi inquietanti, talmente tanto che Anne-Marie pensa di essere dentro un film horror. La vittima riesce comunque ad alzarsi e dirigersi verso la porta d'uscita. Ma purtroppo Sharon è più veloce e sferra il colpo. Prima che potesse sferrare altri corpi, però, nel bagno entrano delle ragazze e scoprono quello che stava accadendo. Sharon allora scappa via e le ragazze chiamano la polizia. Quello che succede dopo già lo sapete. Quindi Sharon ha attaccato questa ragazza senza alcun motivo. Non la odiava, non aveva mai avuto rapporti di alcun tipo con lei. Semplicemente in quel momento ha voluto giocare con la sua vita, scegliendola in maniera del tutto casuale. Quel giorno quindi, volente o nolente, sarebbe successo qualcosa, perché se la vittima non fosse stata Anne-Marie, sarebbe semplicemente toccato a qualcun altro. Sharon voleva colpire e l'avrebbe fatto comunque, chiunque fosse stata la sua vittima. In un certo senso è stato grazie a questa terrificante combinazione di eventi che la polizia si è interessata a Sharon. Come ho detto, Anne-Marie soffrirà per tutta la vita per questo attacco. Non aveva fatto davvero nulla per meritarselo. Come Katie, lei è una vittima casuale, e Sharon a questo punto viene portata via, lontano dalla società. Ma la polizia a questo punto ancora non ha collegato l'omicidio di Katie a Sharon. Ha solo allontanato una ragazza problematica con un coltello. Non puoi immaginare quanto Marcia nasconda. La storia infatti non finisce qui. Anzi, da adesso la ragazzina cambierà ancora e in peggio. Fino ad ora Sharon era libera e faceva tutto ciò che voleva. Ora però non può, e questo non le piace affatto. Tanto per cominciare Sharon è stata proprio arrestata. E non è così scontato. Per cui viene mandata prima in un centro di valutazione medica, poi effettivamente arrestata. Perché ha cercato di picchiare il personale sanitario. È ancora in una fase in cui vuole fare del male. Percepisce un'adrenalina esplosiva in corpo e ha bisogno di colpire. Addirittura arriva a strangolare un membro del personale. Cioè, è assurdo. Infatti viene prelevata di nuovo, messa in un punto sorvegliato con personale adeguato e tempo dopo portata al processo. Viene quindi accusata per i due episodi di attacchi fisici contro il personale e anche per il suo attacco a Dan Mary Clifford. Viene condannata nel dicembre 1994 a due anni di reclusione in una struttura apposita. Quindi non in un normale carcere. E ricordiamoci che al momento ha solo 14 anni. Per tutta la comunità è semplicemente terrificante che una ragazzina di solo 14 anni così giovane avesse provato ad uccidere. Ma non sanno ancora che qualche anno prima c'era addirittura riuscita. Da qui comunque iniziano a spostarla tra varie strutture. Perché puntualmente, ovunque andasse, si presentava un grave problema che la rendeva ingestibile. È proprio in questo periodo che la sua fama cresce e che le dinamiche sul caso di Katie vengono a galla. Sentite cosa succede. Sharon, di struttura in struttura, ha continuato ad aggredire regolarmente altre donne. Quindi è stata trasferita in un'unità per soli uomini presso l'Acliff Seeker Center. Nel settembre 1995 è stata trasferita all'istituto per giovani delinquenti di Bullwood Hall dove si pensava che il suo comportamento aggressivo potesse essere gestito meglio. Spoiler? Assolutamente no! In questa struttura il personale la scopre mentre parla in modo molto tranquillo, fiero e vanitoso dell'uccisione di Katie Radcliffe. Questi discorsi che fa con aria di assoluta superiorità li fa tranquillamente davanti ad amici e familiari, sia al telefono che nel suo diario privato. Ammette anche di aver aggredito un agente della prigione per il quale aveva una cotta e ne parla con un agente di sorveglianza. Quindi Sharon, in un certo senso, è come se si sentisse in vacanza, come se credesse di avere il diritto di fare quello che voleva, perché tanto ormai non aveva più freni. La sua bocca si riempie di parole allucinanti e le sue gesta fanno male a molti, personale compreso. In questo periodo blattera di cose orribili fatte in passato, come aver ucciso o aggredito degli animali innocenti. Dice di averlo fatto perché sua madre l'aveva avvicinata ai riti voodoo e lei piaceva controllare le persone, straparla sul come le piacesse uccidere, di come il suo essere una killer fosse il solo motivo della sua esistenza. Come una sorta di vocazione, l'unica cosa che può fare in questo mondo. Il personale di queste strutture, allarmato dalle continue dicerie di Sharon, allerta la polizia. Gli agenti allora sequestrano i suoi scritti, i suoi disegni e ascoltano anche i dialoghi, tutti registrati con amici e parenti. È così che si scopre che i suoi diari contengono dettagli della sua eccitazione sessuale al solo pensiero della morte di Katie. Una vittima verso cui prova ancora un profondo attaccamento viscerale. Commenta sul suo diario che si sente gelosa della sua prima vittima. Facendo riferimenti al diavolo e alle forze che secondo lei l'hanno guidata. Ma il punto ragazzi è che non è preoccupata o impaurita da queste presunte forze. Anzi, ne è felice e ne fa un vanto. Sarebbero delle forze che la possiedono, che l'hanno posseduta durante l'attacco a Katie. E lei è assolutamente felice di questo. Un passaggio del suo diario infatti dice Se solo potessi ucciderti di nuovo, prometto che questa volta ti farei soffrire di più. Fottuta troia. Le tue urla terrorizzate mi hanno eccitato. Le ferite alle parti intime sono stati i veri obiettivi. Infatti un altro passaggio recita Giuro di essere nata per essere un'assassina. E in una lettera di un amico scrisse Sono un'assassina. Uccidere è affar mio. E gli affari vanno bene. Quindi a seguito di tutte queste raccapriccianti scoperte, la polizia la interroga per vedere cosa ha da dire. E come era prevedibile, lei confessa tutto. Forse non vedeva l'ora di confessare tutto, dato che per lei l'uccisione era come un grande traguardo. Descrive graficamente una particolare ferita e fornisce dettagli che la polizia aveva deliberatamente nascosto. Il che significava solo una cosa. Sharon sa cose che solo il colpevole poteva sapere. Non ci sono più dubbi. È stata lei. Sharon alla fine mostra anche una ricostruzione del crimine ridendo ad ogni dettaglio. Per lei è tutto splendido e come un bambino in un parco divertimenti. Fornisce tutti i dettagli che vi ho raccontato, più o meno. Perché certi dettagli forse sono stati anche omessi dalla stampa. E più che giustamente, direi, dato che immagino fossero dettagli davvero macabri. Più che altro, Sharon in quegli interrogatori è così logorroica e dettagliata che ci vollero ore affinché si fermasse. Anche dopo gli interrogatori ha continuato a scrivere sull'omicidio. Vantandosene, ovviamente. E nel gennaio 1996 ha rilasciato un'ulteriore serie di confessioni agli agenti della prigione per cui aveva una cotta. Adesso è solo questione di tempo prima che vada di nuovo a processo. E infatti è presto detto. Sharon Carr viene accusata dell'omicidio di Katie Radcliffe nel maggio 1996. Il 26 marzo 1997 dopo un mese di processo presso la Winchester Crown Court viene condannata per omicidio. La giuria ha deliberato per cinque ore prima di raggiungere un verdetto di colpevolezza unanime. A quel tempo la ragazza è diventata l'assassina più giovane della Gran Bretagna avendo solo 12 anni al momento dell'omicidio. Ovviamente per lei tutto questo non è importante. Sorride sempre ogni volta che si parla del delitto. E ha sorriso persino quando ha lasciato il banco degli imputati dopo la condanna. Ha ricevuto un minimo di 14 anni di reclusione. E lei ha sorriso. L'intera faccenda ha raggiunto alti livelli di popolarità. Cioè, non è normale che una dodicenne al tempo fosse stata responsabile di un massacro del genere. Da come è stato descritto il corpo di Katie sembrava davvero che fosse intervenuto Jack lo squartatore. Invece no, è stata una ragazzina. Una ragazzina con una forza in corpo smisurata. In un modo inquietante direi. Tanto da sopraffare un adulto e dilaniare un corpo con terribile semplicità. Lei, come già ripetuto più volte, è fiera di ogni singolo aspetto di questa sua nuova vita. È nata in un contesto dove ha visto solo violenza. Ha frequentato gente molto tossica e questo è stato il risultato. Diventare la figlia del diavolo come l'hanno affettuosamente rinominata ai media. In effetti sembra essere posseduta per quanto è violenta con tutti. Rimane ossessionata dalla crudeltà che è capace di infliggere. In seguito alla sua condanna comunque Sharon è rimasta nella H.M. Prison Hallway la prigione femminile più famosa della Gran Bretagna. Successivamente però è stata trasferita al Broadmoor Hospital nel 1998 che per qualcuno può essere familiare. Infatti Broadmoor è lo stesso ospedale di cui abbiamo parlato nel primo episodio del podcast. Tra parentesi se non l'avete ascoltato o visto cercate Red Room su YouTube o Spotify o ovunque e ci trovate. In quell'episodio abbiamo parlato delle giamelle Gibbons soprannominate le giamelle silenziose e durante la puntata abbiamo approfondito anche le condizioni di Broadmoor quindi andate a recuperarlo dopo questo video perché fidatevi è una storia altrettanto inquietante. Ma comunque mentre Sharon si trovava a Broadmoor ha continuato ad aggredire il personale e altri detenuti e ha ammesso di voler togliere la vita al suo compagno di reclusione tagliandogli la gola. Ad un certo punto ha anche pensato di essere una sorta di lucertola e ha cercato di tagliarsi per tentare di scoprire se fosse ancora umana cioè per vedere se gli sarebbe ricresciuto l'arto. Cioè capite a che livelli siamo ormai? Nonostante questo nel 2004 il suo team di difesa ha contestato i suoi 14 anni di galera ma tutti i ricorsi sono stati respinti. Nel 2007 è stata trasferita nuovamente all'unità di Orchard ma è stata poi inviata alla prigione di H.M. Bronsfield nel 2015 come detenuta con status limitato cioè che presenta un rischio per i pazienti e per il personale. Il suo mandato affermava che non avesse più bisogno di cure o che non potesse essere somministrato alcun trattamento perché non sarebbe stato efficace. Nel dicembre 2018 è stata trasferita all'H.M. Prison Lone Newton ma è stata rapidamente trasferita di nuovo a Bronsfield nell'agosto 2019 dopo un violento incidente con un altro detenuto. Nello stesso anno si è cercato di far valere la condanna iniziale e quindi farla uscire perché i 14 anni di reclusione erano più che passati ma ogni tentativo fu inutile perché nel 2020 solo 3 anni fa è stato constatato che ancora non può essere liberata e cito non sono state ancora fornite prove significative di una riduzione della sua pericolosità. Sharon adesso sempre a quanto si dice sta sviluppando degli episodi paranoici continua comunque a desiderare di uccidere altri prigionieri questa è la costante che è sempre rimasta nella sua vita pare che ancora oggi sia detenuta e chissà per quanto tempo rimarrà in questa condizione la sua storia sembra davvero un film horror perché Sharon è la tipica estranea che nessuno vorrebbe incontrare la tipica persona losca che ti accoltella tradimento letteralmente quindi chissà in futuro cosa succederà semmai la riterranno idonea ad uscire nel mondo esterno cosa potrebbe succedere ditemelo voi perché io non voglio proprio usare la fantasia io comunque credo che una persona del genere con questi problemi sia quasi impossibile da reinserire nella società ma fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate comunque per i pochissimi fedeli che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un serial killer molto particolare è stato diciamo la causa del mio primissimo attacco d'ansia mentre leggevo la sua storia ho iniziato a sudare freddo e mi girava la testa il mio cuore batteva fortissimo e facevo anche fatica a respirare già quindi spero che rimarrete nei paraggi e se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo ora vi ricordo di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao